Per fortuna che viviamo in un momento storico in cui la benzina non costa niente Quanto è? 2,004€ al litro Assetata Vediamo un po' chi c'è e chi non c'è Ma che belli, ma che belli Signori e signori buongiorno e benvenuti in questo nuovo video Oggi raggiungo un annuale KTM Super Duke Lombardia Quindi vediamo chi c'è e chi non c'è Perché il previsione del tempo non dà uno bellissimo Ma stiamo zitti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma che belli Siamo in metà di mille ragazzi Siamo in metà di mille Che giornata ragazzi Che bello Per vedere tante persone Purtroppo ci si hanno così poche occasioni per vedersi tutti insieme Ma oggi siamo veramente in tanti Speriamo che il tempo regga Qua è questa moto incredibile Non ce n'è una uguale all'altra Ognuno può personalizzarla come meglio crede Ce la fa a proprio piacimento Secondo i propri utilizzi Cioè E' bellissimo E' bellissimo E' bellissimo E cominciamo con questo bel Selvino Siamo in Embro Questa mandria di cavalli imbizzarriti Va che belli Va che mandria Super Duke Super Duke ovunque Davanti Dietro Va che spettacolo Ne approfitto Per ringraziare Matteo E tutti gli altri organizzatori del giro Matteo fa il capofila Ci sono i ragazzi con le pettorine Che fanno le staffette Siamo in tanti E riescono a gestire bene tutto Grazie ragazzi E saliamo su questo bel Selvino In mezzo al traffico Sìììì Bello bello Va che belli Va che belli Bella bella Arrivati sul Selvino Ma che bella che sei E adesso scendiamo dal Selvino Va che belli Questa è una delle strade più belle d'Italia Allora io do di Bracca Spettacolo Va che spettacolo Ma che posto è Ma che posto è Ma è Tipo Io lo so Canyon americano Va che roba Bellissimo Va che spettacolo A parte le nuvole là in alto Ma che bello Ma che bello E adesso saliamo Sul San Marco Nooo Ding dong Ding dong Ding dong Bella Bellissima strada Passa San Marco Andrebbe sistemata un po' meglio Mamma mia Mamma mia Ma che spettacolo Ma che spettacolo Ma che roba Una mandra di cavalli Impizzarriti Una mandra austriaca Ma che belli Ma che bello Ma che bello Ma che bello Siamo tra le nuvole Ragazzi Siamo tra le nuvole Oh Oh Allora Passa San Marco Siamo tra le nuvole Temperatura 14 gradi Strada umida Ma molto bella Guarda 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 Siamo in mezzo alle nuvole Signori Attenzione Attenzione C'è bagnato Bello Adesso si scende In direzione Morbegno Allora Fanno la misera Mentre parlo Non dico che vorrei Accendere le manopoli Scaldabili Perché un po' di freschino Ci sta Però È prezzantissima La temperatura Bello Bello Bene Scendiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Stefano Che oggi Un saluto a loro 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 bene siamo giunti alla fine di questa bellissima giornata grazie a Matteo, grazie a Marco grazie a tutti i ragazzi del gruppo Super Duke Lombardia per aver organizzato questo bellissimo raduno noi ci vediamo nel prossimo video e buona Moto2 è un video, è un video, è un video? grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi grazie a tutti i ragazzi